Mentre pescavo su una spiaggia bassa utilizzando la bombarda e il raglù come esca, una spigola invece di attaccare l'esca stessa ha attaccato per ben due volte la bombarda, inseguandola fino a riva. A volte può succedere perché la spigola scambia la bombarda per una preda, soprattutto quando l'acqua, come in questo caso, è alta solo pochi centimetri.